Queste due settimane di rinvio a noi ci sono servite, ci sono servite per lavorare di nuovo ad alta intensità, abbiamo messo un motore nelle gambe, ci serviva per l'ultimo periodo che non è stato per niente brillante, quindi dovevamo anche ritrovare un po' di certezze che in queste due settimane negli allenamenti abbiamo trovato, quindi ora speriamo sabato di rimettere in mostra quello che all'inizio del campionato mettevamo in mostra e quindi ci sono servite sinceramente. Come l'ultima partita ho l'entella, se il modulo deve essere il 3-5-2, sicuramente per le mie caratteristiche un po' verrei penalizzato, però posso giocare comunque sotto punta, ho ricoperto anche altre volte la mezzala, quindi io dove mi metto il mister cerco sempre di adattarmi, da aiutare i compagni, poi se servo in partita in corso dall'inizio o non servo, quello sta al mister, io sono a completa disposizione come tutti i compagni, quindi il modulo ci entra ma fino a un certo punto. Quella partita fu clamorosa perché avevamo avuto 4 occasioni nel primo tempo, quindi aver lasciato 3 punti in quella partita sicuramente ci deve lasciare qualcosa dentro e dobbiamo avere la voglia di riscattarci anche per come è andata l'andata, quindi noi non pensiamo all'avversario, ormai l'andata, il giorno d'andata è finito, però comunque è una cosa, uno stimolo in più che deve essere usato dalla nostra parte. La classifica la guardiamo perché tutti la guardano, no però dobbiamo anche dire che se è una classifica corta perché è così, e tutto dipende dai risultati perché se ripartiamo come abbiamo finito il campionato sicuramente sarà difficile, però noi dobbiamo essere fiduciosi, fiduciosi nei nostri mezzi e sicuramente andremo in una zona di classifica migliore. La situazione su di noi, cioè noi non andiamo in campo pensando all'esterno, a quello che succede all'interno della società, al di fuori, quelle sono cose della società, noi sicuramente non ci dobbiamo attaccare a avere alibi su questa situazione perché in campo ci andiamo noi e non c'entrano niente in queste situazioni, quindi ti dico di no, sinceramente no, non ci ha inciso, siamo noi che sicuramente non riuscivamo più a esprimere quello che abbiamo espresso durante l'inizio del campionato e ora, come ho detto, dobbiamo iniziare e fare un altro campionato. Personalmente sicuramente qualche gol in più potevo farlo perché ne ho avuto anche le occasioni, c'è stata anche a volte un po' di sfortuna, ho preso due pali, qualche sfortuna posso, però io penso sempre che posso fare meglio e questo giorno di torno spero di fare altri gol, aiutare la squadra, ma anche se non ci sono i gol l'importante è fare le prestazioni che possano aiutare a portare punti alla squadra.